Ogni anno i dati dello Svime non sono incoraggianti e anche ieri che c'è stata la presentazione del rapporto 2020 abbiamo potuto prendere atto che la situazione rispetto agli altri anni ha peggiorato ancora di più perché sappiamo tutti dovuta a questa pandemia che quasi un anno ha coinvolto l'Italia. Questo ha fatto emergere ancora di più le differenze tra nord e sud, malgrado nel primo lockdown il sud sia stato perlomeno riparato da quella che è stata l'emergenza sanitaria rispetto al nord, tuttavia le ripercursioni e le conseguenze sul piano economico sono state veramente devastanti. In interi settori produttivi che scompaiono, centinaia e migliaia di posti di lavoro che si perdono, i giovani che veramente scoraggiati non vanno più alla ricerca dei posti di lavoro, quindi una situazione veramente drammatica che non fa, almeno nei prossimi mesi, fa vedere qualcosa, fa intravedere qualcosa di positivo. E' davvero complicata la situazione drammatica a tutti i livelli nel nostro paese, in particolare al sud. Dottore Condorelli, lei che ne pensa del recovery fund, di questo ristoro che dovrebbe arrivare a cascata in tutti i paesi europei da parte dell'Europa stessa, questi finanziamenti che dovrebbero dare ossigeno all'economia europea e italiana? Intanto c'è un gran parlare, ma oggi mi pare che di progetti non ne stiamo sentendo parlare. C'è un grande lavoro che stanno facendo le regioni, il governo nazionale, perché effettivamente c'è un'immensa somma di denaro che arriveranno nei vari paesi europei, noi parliamo della nostra Italia, che dovranno veramente rappresentare delle risorse per ricostruire l'Italia del futuro.